il mio mondo nel mondo c'è posto per tutti nel mio no parlo di quel mondo interiore fatto di essenza sentimenti valori e verità quella verità autentica non quella che fa comodo ma quella che ti rappresenta scevra di interpretazioni e forzature non importa che gli altri la comprendano oggi non ho più bisogno di essere riconosciuta dal mondo lì fuori mi guardo allo specchio senza timore con occhi antichi e attenti e non mi lascio più distrarre da chi è tanto distante dalla mia anima sono esattamente come sono mio cuore è sempre aperto e pregno d'amore ma non è per tutti ho imparato ad amarmi e non tutti sono degni delle mie cure del mio amore questo mio mondo tanto cristallino meravigliosamente imperfetto ma preciosamente onesto e colmo di saggezza e coraggio lo onoro e lo rispetto ogni giorno